Con Antonella Dilario che è il vicepresidente della Federazione Italiana Nuoto Abruzzo. Federazione Italiana Nuoto Abruzzo che fa tanto per il salvamento, soprattutto in questo periodo, che è un periodo completamente nuovo, il periodo del Covid. Esatto, la Federazione Italiana Nuoto dà un'importanza fondamentale al ruolo dell'assistente bagnante perché come abbiamo visto dall'esercitazione di oggi è l'avamposto per i soccorsi in mare. I corsi di assistenti bagnanti si rivolgono non solo per la sicurezza in mare ma anche la sicurezza in piscina e sono i tecnici professionisti della sicurezza che hanno il compito principale di vigilare sulla sicurezza. È ovvio che nell'ambito dei nostri corsi poi si apprendono anche le tecniche di primo soccorso come abbiamo visto oggi in attesa che poi il 118 arrivi con una competenza più specifica. Diciamo la parte principale oltre alle tecniche natatorie dei nostri corsisti che si avvicinano a questi corsi già a partire dai 16 anni. Sono tutti ragazzi che provengono da un'attività agonistica di nuoto, di pallannuoto che quindi sono già pronti e preparati per fare un'assistenza adeguata. Volevo sottolineare e ricordare che i nostri corsi di assistenti bagnanti con tutti i corsi FIN per quanto riguarda anche la formazione del nuoto sono l'unica associazione che è riconosciuta dal CONI. Questo perché la FIN ha una tradizione sul mare, ha una tradizione sul salvataggio, ha una tradizione, una professionalità e un'efficacia e un'efficienza sul primo soccorso che ci è stata riconosciuta negli anni e che ci viene riconosciuta come un'unica associazione affiliata a CONI.